Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Il 15 maggio parte ufficialmente la stagione balneare in Abruzzo. Sulle spiagge si lavora per gli ultimi preparativi. Pronti i protocolli anti-covid-19. Il servizio di Paolo Renzetti. Conto alla rovescia è già iniziato. Il 15 maggio aprirà la stagione balneare nella nostra regione. Siamo a Pescara, in pieno centro, stabilimento l'Adriatica, con la titolare la signora Anna Di Davide. Stiamo vedendo alle sue spalle che già si lavora, praticamente tra poche ore verranno messi anche gli ombrelloni. Tra quattro giorni si parte? Si parte, sì. Ufficialmente è il 15, dal 15. Loro approfittano per pulire bene, già hanno messo le basi, bisogna solo gangiare l'ombrellone e le palme. Quindi noi ci teniamo molto la pulizia, rispettiamo le distanze imposte dal programma covid. Siamo carichi, vogliamo lavorare. Abbiamo un po' diminuito il numero degli ombrelloni per dare più spazio e anche delle palme. Però noi non ci accontentiamo. L'importante è che le gente vengano al mare e abbiamo visto che hanno voglia di venire al mare. Abbiamo ricevuto le prenotazioni più presto degli altri anni. Quindi c'è una voglia di venire al mare e noi siamo pronti. Tra l'altro mi diceva che come anche lo scorso anno ci sarà un percorso che voi avete preparato per l'ingresso e per l'uscita dal Lido. Tutte le normative covid noi le rispettiamo e lì è dove è possibile. Noi abbiamo questa possibilità perché la concessione è abbastanza grande. Abbiamo praticamente tre ingressi e quindi facciamo il percorso per entrata, per entrare e il percorso per uscire. Mettiamo disinfettanti dappertutto e facciamo il foglio della tracciabilità come l'anno scorso per tutti. e tutto quello che facciamo è rispettare le distanze e soprattutto andate in ritorno, almeno fino a oggi la normativa è così, dovranno andare con le mascherine. C'è la ciliegina sulla torta della bandiera blu a Pescara, una bellissima notizia. Assolutamente sì, dobbiamo ringraziare il sindaco Masci e anche la collaborazione di Padovano, ma soprattutto il sindaco Masci ce l'aveva promesso e ha mantenuto la parola. Ed è un orgoglio, soprattutto per noi balneatori, intanto penso per tutta la cittadinanza. E restiamo in qualche modo in argomento perché dopo l'assegnazione della bandiera blu a Pescara i consiglieri di centrosinistra rivendicano i meriti della passata amministrazione. Come ha spiegato questa mattina ai nostri microfoni l'ex sindaco Marco Alessandrini. Alessandrini, voi rivendicate i meriti della passata giunta perché oggi se Pescara ha la bandiera blu c'è stato del lavoro dietro. Questo è il senso della conferenza stampa di oggi, senza strumentalizzazioni come lei diceva a Pocanzi. Alla gioia per questa notizia così importante fa seguito l'amore di verità. L'amore di verità impone di evidenziare che le cose non succedono perché facciamo un post su Facebook, ma perché c'è del lavoro. Il lavoro che ha condotto al risultato della bandiera blu è frutto naturalmente di anni di programmazione, di progettazione, di interventi sul depuratore, di interventi sul DK15. Tutta una serie di questioni che sono iniziate nel corso della precedente consigliatura. Io non mi ascrivo a questa categoria per cui ogni volta bisogna sottolineare ho fatto questo, ho fatto quest'altro. Infatti mi vedete raramente. Però essendo la questione mare divenuta oggetto di strumentalizzazioni politiche molto pesante, mi sembrava opportuno con la mia presenza, che peraltro fa il paio con la presenza delle opposizioni e dei sopravvissuti di quella stagione amministrativa, per evidenziare come sono andati i fatti. Io certamente ho apprezzato in passato il fatto che il sindaco di Pescara mi abbia invitato a una serie di inaugurazioni per le quali è evidente che c'era una robusta quota del nostro precedente lavoro. Penso al Parco dello Sport, penso alla Piazza dei Colori di Sum. Qui forse sarebbe stato un po' troppo, visto che è stato grimaldello politico, però un po' di buon gusto. Se non sbaglio era quel tale, diceva che l'educazione come il coraggio di un abbondio, come il buon gusto, non è una cosa che si impara per corrispondenza, bisogna averla oppure ce ne faremo una ragione. Però siamo qui a sottolineare il senso del nostro impegno progresso, di aver consumato il tempo delle nostre responsabilità politiche facendo cose buone e giuste di lungo periodo, perché la pubblica amministrazione è una lunga marcia, però ci vuole costanza e impegno. Cambiamo pagina. Un'area di 2.500 m2 a Montesilvano, trasformata in discarica abusiva, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Denunciate 4 persone alla Procura della Repubblica di Pescara. Vediamo. È stato un sopralluogo effettuato dall'alto in elicottero lo scorso 8 aprile dai finanzieri del reparto operativo aeronavale, in collaborazione con i colleghi del gruppo Pescara, a far individuare un'area di 2.500 m2 dove era stata realizzata una discarica abusiva nel comune di Montesilvano. Ulteriori verifiche hanno confermato la presenza di oltre 380.000 kg di rifiuti speciali pericolosi abbandonati sul suolo vegetale. A conclusione dell'attività, le fiamme gialle hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara quattro soggetti ritenuti responsabili di gestione di rifiuti non autorizzata, realizzazione di discarica abusiva e violazioni al testo unico ambientale. Si è proceduto pertanto ad applicare la misura cautelare del sequestro preventivo dell'intera area, nonché dei rifiuti speciali ivi contenuti. Circa gli aspetti ambientali e la salute dei cittadini, a seguito dell'intervento è stata informata l'Arta Abruzzo per l'esecuzione della campionatura dei materiali rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato da effettuare a carico del trasgressore. L'operazione ha anche risvolti di natura tributaria connessi alla cosiddetta ecotassa, il tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi che si applica anche nei confronti di chi illecitamente mette a disposizione aree di terreno adibendole a discariche non autorizzate. La base imponibile, determinata in relazione alla quantità e alla tipologia dei rifiuti stimata dai tecnici intervenuti sul sito, ha consentito di accertare migliaia di euro di tributi non versati. E ora ci spostiamo a Teramo dove l'amministrazione comunale ha ritenuto illegittima la proroga con la quale si consentiva al privato di gestire i parcheggi a raso di Piazza Dante. Dopo dieci anni il comune torna in possesso di questo spazio pubblico e riflette sul futuro urbanistico di una delle più belle piazze della città. Una delle ferite urbanistiche più impattanti inflitte al centro storico di Teramo è stato lo sventramento di Piazza Dante per la costruzione di due piani di parcheggio interrati. La struttura realizzata dalla società privata, la parcheggio Piazza Dante SRL, fu inaugurata nel 2009 e prevedeva che il privato gestisse anche gli stalli del piano a raso della piazza fino al 2011 per un riequilibrio economico. Spazio che sarebbe poi dovuto tornare nella disponibilità del comune di Teramo in previsione di una pedonalizzazione definitiva. Dopo dieci anni, in virtù di continue proroghe, questi parcheggi pubblici all'aperto sono ancora gestiti dal privato. Per questo, l'amministrazione comunale ha deciso di affrontare la questione di petto e interrompere subito la proroga, ritenuta illegittima in favore degli attuali gestori e tornare in possesso dell'area di Piazza Dante. Si è chiusa questa vicenda relativa a una gestione in proroga finalizzata a recuperare uno squilibrio che noi, sulla base dei dati a disposizione, abbiamo verificato con questo studio che comunque si è chiusa in ogni caso almeno il 31 dicembre 2019. Sono convinto che se fosse stata verificata per bene la gestione, questa storia si sarebbe chiusa molto prima, però intanto mettiamo un punto, continuiamo ovviamente le nostre verifiche, apriamo l'interlocuzione con il concessionario che comunque resta un nostro interlocutore per la gestione dei piani sotterranei del parcheggio, si definiranno i rapporti giuridico-economici per quanto riguarda questo periodo transitorio in cui cambia la prospettiva, siamo noi ad avere la necessità di riequilibrare la gestione perché non si giustifica più come proroga, vedremo appunto quale sarà il tema di discussione con il concessionario. Ora ci si chiede quale sarà il futuro urbanistico di Piazza Dante e il progetto iniziale prevedeva che a compensazione dello sventramento dell'area il piano arraso sarebbe stato pedonalizzato, arredato e fruibile l'intera cittadinanza come luogo di aggregazione. Sarà proprio così? La piazza va sistemata perché è stato lasciato uno scempio, sventrata in alcune sue parti per una serie di scelte appunto non comprensibili e quindi la sistemazione della piazza è il punto fermo. Per correttezza nei confronti degli organi che dovranno decidere e anche per la città che ovviamente coinvolgeremo, in questo momento ci fermiamo a questa riflessione, valuteremo anche l'impatto che il futuro di Piazza Dante ha, intanto con una riconnessione urbanistica con la città complessiva e anche sulla gestione del piano della sosta. Ieri all'Aquila il Presidente della Regione Marsilio ha incontrato il nuovo responsabile della struttura di coordinamento della ricostruzione e dello sviluppo delle aree colpite dal terremoto del 2009. Giuseppe Dentino. Il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha incontrato Carlo Presenti, il nuovo responsabile della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. All'incontro avvenuto ieri a Palazzo Fibioni, all'Aquila, hanno partecipato anche il Sindaco del Capoluogo Pierluigi Biondi e i primi cittadini coordinatori delle aree omogenee. L'incontro è per velocizzare il cambio al vertice della struttura di missione, ha commentato il Governatore Marsilio. Speriamo di poter riprendere il lavoro senza soluzione di continuità. Spesso quando c'è un cambio di responsabilità dentro un ufficio si passano mesi soltanto a rimettere ordine alle carte e a permettere al nuovo responsabile di assumere l'iniziativa e di comprendere qual è la dimensione del problema che si ha di fronte. Siccome negli ultimi 2-3 anni è già successo un paio di volte che c'è stato questo cambio nella struttura di missione, l'ultimo era stato l'ingegner Fabrizio Curcio che è tornato in protezione civile, ci siamo subito premurati di incontrarci per velocizzare quanto prima questa presa di possesso dei temi, individuando una serie di priorità e di questioni. Speriamo di poter avere un rapporto proficuo e fluido con il nuovo Capo e andare avanti con la struttura di missione nella ricostruzione. Open Day con meno adesioni del previsto e regolari istitute vaccinali per chi ne ha diritto. In più screening per gli studenti delle scuole medie di Avezzano. L'assessore del Comune Marsicano, Maria Teresa Colizza, analizza i dati delle ultime ore. Vediamo. Assessore, si è chiusa la due giorni dedicata all'AstraZeneca e al vaccino monodose Johnson & Johnson. È il secondo weekend che viene dedicato ad una vaccinazione di questo tipo, rivolta ovviamente a determinate fasce di età, diciamo così, quelle prese in considerazione poi dal piano nazionale. Avezzano, come ha risposto in questi ultimi due giorni al motto della vaccinazione? La prima giornata di Open Day ha avuto un afflusso discreto, ma non esattamente proporzionale alle disponibilità, perché c'era la disponibilità di 250 vaccini AstraZeneca e Johnson e c'è stata una partecipazione di poco più di 150 persone. Ma naturalmente poi c'è stata la normale seduta vaccinale con i pazienti già prenotati da prima. Nella giornata di ieri non ci sono state adesioni all'open day, ma sono stati fatti comunque circa 600 vaccini di persone che erano state prenotate. Si sono risolti alcuni problemi legati, diciamo così, a tutto l'iter che riguarda la vaccinazione, quindi dall'arrivo del farmaco, la preparazione del farmaco e poi il vaccino stesso? Sì, oggi ho affrontato con il direttore generale dell'ASL e con il direttore sanitario alcune criticità e sempre nell'ottica di una collaborazione tra il comune e l'ASL le abbiamo risolte. Oggi parte lo screening rivolto agli studenti delle scuole medie, quindi in qualche modo viene allargata la fascia di età degli studenti. Sicuramente si tratta di un'opera molto importante perché va ad individuare dei positivi qualora ci fossero prima dell'ingresso in classe e quindi evitare, diciamo così, dei focolai che vengono generati proprio all'interno delle stesse classi, il che poi comporta la quarantena e tante misure precauzionali però che vanno un po' a ingolfare, diciamo, tutto il meccanismo della scuola che è ripartita. Dove verranno effettuati questi test e per quanti giorni andranno avanti? Cominciamo oggi nel drive-thru dei carabinieri e continueremo per quattro giorni, fino a giovedì compreso e se necessario, se c'è un'affluenza superiore al previsto possiamo anche prolungare. Cominciamo oggi con la Fermi e domani Fermi-Vivenza, poi ci sarà Corradini e poi Marini. È previsto un afflusso discreto perché abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici di darci un'idea del numero di adesioni. Naturalmente si tratta di ragazzi, di bambini che devono avere il consenso dei genitori, per questo abbiamo preferito i drive-thru. Venerdì partirà da Notaresco con arrivo a Termoli dopo 181 km, la settima tappa del Giro d'Italia. L'evento è stato presentato stamani nel comune della Val Vumano alla presenza di rappresentanti istituzionali e della campionessa Marta Bastianelli. Il servizio di Jacopo Forcella. Presidente di Buonaventura, la presentazione di una tappa di un giro non è mai una cosa scontata, oggi in una duplice veste però, doppiamente piacere in maggio alle facce. Sì, sono qui oggi come sindaco in primis perché l'abbiamo pensato a 12 mesi fa, è un grande evento sportivo come dicevate e per un paese piccolo è difficile ancora di più tutta la fase organizzativa perché abbiamo un paese compresso nel borgo del centro storico, però quando dico sempre che solo chi sogna realizza l'impossibile, l'impossibile è diventato possibile. Il 14 avremo questa grande tappa, abbiamo cercato di rendere ancora più accogliente il nostro paese e che cosa dico sempre? Io che gli eventi, i grandi eventi generano entusiasmo e l'entusiasmo genera la pila. Lo dico così perché da tantissimi giorni molti arrivano qui a vedere il paesino, chi ha il bar, chi al ristorante all'aperto consuma nei nostri luoghi. La cosa bella è che è anche un evento che aiuta le comunità circostanti perché 1800 persone circa, la carovana arriverà giovedì nel nostro paese e pernotteranno non solo a Notaresco ma nei comuni di Mirafi o sulla costa. È importante perché facciamo anche promozione turistica perché tanti conosceranno il nostro paese, la nostra provincia, la nostra regione in quei giorni sarà nazionalizzata, anzi mundializzata, ci sono oltre 200 testate in collegamento per questi eventi ed è importante che in questo momento di grossa difficoltà continuiamo a promuovere la nostra provincia, la nostra regione, la nostra amata Italia. Sono molto dispiaciuta che non sarò presente il 14 per la partenza della tappa del Giro d'Italia ma sono impegnata in Spagna per delle gare importanti per cui purtroppo non ho potuto dire di no. Sicuramente credo che questo paese si sta muovendo verso un qualcosa di veramente grandioso perché portare una tappa di un Giro d'Italia, ricevere così tanta attenzione e soprattutto anche, non so, importanza da parte degli organizzatori del Giro non è semplice sappiamo che in un momento come questo c'è bisogno di molta più cura rispetto che prima quindi credo che sia veramente un qualcosa di pazzesco. Sono molto felice per loro, sono felice per il nostro paese, dico mio perché ormai sono qui da un po' di anni e sicuramente lo sarò ancora per molti e mi auguro che da qui possiamo partire per delle avventure così importanti che ci portano sempre in alto. Siamo evidentemente alla pagina dello sport, ora il calcio di serie B, siamo pronti a voltare pagina e il titolo della lettera del presidente del Pescara Daniele Sebastiani alla città e ai tifosi che è stata pubblicata stamani sul sito della società. Il massimo dirigente Biancazzurro si è scusato per gli errori che hanno portato alla retrocessione e si è detto pronto ad allestire una squadra competitiva che possa puntare ad una pronta risalita in serie B. Vediamo. La gara di ieri con la Salernitana ha fatto calare il sipario su un campionato che è stata una agonia per il Pescara. Salutata la B, la società Biancazzurra torna in serie C a distanza di 11 anni ed è già il momento di preparare il futuro. Sempre ieri bocche cucite in casa Pescara nell'attesa della convocazione di una conferenza stampa da parte del presidente Daniele Sebastiani per fare chiarezza sul futuro. E invece stamani sul sito ufficiale della società sono apparse le dichiarazioni testuali del massimo dirigente Biancazzurro tese a scusarsi per gli errori commessi in questi mesi che hanno portato alla retrocessione ma anche a rassicurare i tifosi circa l'imminente futuro. Indietro non si torna, spiega Sebastiani ed è inutile trovare giustificazioni per descrivere questo momento infelice per i colori Biancazzurri che ci vede dopo 11 anni tornare in terza serie a fronte di una stagione difficile, travagliata e deludente ma soprattutto pregna di scelte sbagliate. Sebastiani rivolge un pensiero ai dipendenti e collaboratori dell'intera struttura del Pescara Calcio e ai tifosi delusi dai risultati. E prosegue. A tutti voglio dare la mia rassicurazione per il futuro. Abbiamo una società sana, pronta a iscriversi al prossimo campionato e in grado di allestire una compagine competitiva per cercare una pronta risalita. Cercheremo di portare avanti i nostri progetti giovanili e le tante iniziative oggi in atto, la creazione e la gestione di nuovi centri utili soprattutto per alimentare quella fiamma di appartenenza comune a tutti noi. Infine, prosegue il Presidente del Pescara, sento il dovere di scusarmi con tutte le persone che amano davvero questi colori per la situazione che stiamo vivendo, per la delusione e la rabbia. Ci tengo a dire che da principale responsabile del nostro amato Delfino nutro il vostro stesso sentimento ma nonostante questo enorme peso oggi non posso permettermi di alzare bandiera bianca. Le delusioni spesso aprono gli occhi e da questo oggi si deve ripartire cercando di rimediare ad errori e chiedendo a voi tutti di stare vicini ai colori biancazzurri. Parole queste che sembrano il chiaro segnale di una volontà di cambiare le cose e intraprendere una strategia nuova, un modo diverso di fare calcio rispetto a quello finora praticato che ha portato a successi fino a un certo momento ma poi ad un successivo decadimento fino alla retrocessione. Parole che sanno di un voler ripartire da zero con un nuovo progetto tecnico, una nuova direzione sportiva e una rosa da rifondare. Punti che sembrano ineludibili per pianificare un campionato di Serie C da protagonisti. E ora la Serie D con 13 punti nelle ultime 6 partite. Il Pineto sta risalendo la classifica ed è a tre punti della zona playoff e crede in questo obiettivo il Presidente Silvio Brocco. Presidente Silvio Brocco, possiamo dire finalmente sfatato il tabù agnonese, avevi predicato concentrazione dopo l'1-1 dell'andata è arrivata questa bella vittoria. Sei soddisfatto oggi della prestazione? Io sono molto soddisfatto, al di là della vittoria, comunque vedo domenica in domenica oppure ogni partita che affrontiamo, veramente una squadra determinata, una squadra di valore. C'è un ammarco perché sicuramente per tutte le situazioni negative che abbiamo subito potevamo sicuramente dire anche noi qualcosa di più. Ci credi ancora nei playoff? Beh, se i playoff si dovessero fare perché no, è un obiettivo che comunque è legittimo raggiungerlo. Poi vediamo, vediamo sul campo. La famiglia Pineto Calcio ci teneva particolarmente alla vittoria di oggi perché oggi il Pineto Calcio ricorda uno dei suoi grandi presidenti e la vittoria è sicuramente dedicata a lui oggi. Sicuramente, è totalmente dedicata a Renato, il nostro grande amico storico, nonché appassionato, appassionale del Pineto, lo ricordiamo sempre con grande piacere e chiaramente quando vediamo le partite la domenica ci manca la sua figura, la sua persona, nonché la sua presidenza storica. Quindi noi più giovani come dirigenti, come presidente, abbiamo preso tanto da loro, da Renato, da Don Peppi, da Lutti, quelli che sono stati veramente dei grandi del Pineto Calcio. È stato rinviato a data da destinarsi il recupero della seconda giornata di ritorno di Serie D tra Pineto e Castelnuovo che si sarebbe dovuto disputare domani a causa dei casi di positività riscontrati nella squadra del Vomano nello scorso fine settimana. Restano confermate le altre partite di recupero programmate per domani alle ore 16. In campo due squadre abruzzesi, la Vastese riceverà all'Aragone il Castelfidardo, mentre il notaresco se la vedrà al Savini col Montegiorgio. Non sarà in panchina il tecnico Massimo Epifani, cui a seguito del colpo subito domenica a Vasto nel concitato post-gara, qui è stata data una prognosi di 15 giorni. Al suo posto la squadra sarà diretta dal vice Matteo Falasca. Si giocheranno anche Re Canatese-Agnonese, Porto Sant'Elpidio-Rieti e Fiuggi-Vasto Girardi. E ora cambiamo disciplina, calcio a 5 e partita con il piede giusto, l'acqua e sapone Unigross che ha recuperato in Porta Mammarella e ha travolto Catania nella gara d'andata dei quarti dei play-off Scudetto. Domani si disputerà la gara di ritorno in terra etnea, nella quale la squadra di Scarpitti cercherà il pass per le semifinali. Sergio Zappalorto. Torna Mammarella, torna il sole, torna il successo, torna la speranza, ma di più la voglia matta di riportare un trofeo. Ecco spiegato il 7-0 stucchevole dell'acqua e sapone Unigross. Play-off Scudetto, prima uscita nei quarti, a spese del malcapitato Catania che domani all'evento ospiterà i nerazzurri angolani nella propria Tana in gara 2. Eventuale bella, sabato 15 di nuovo a Pescara, ma se l'antipasto è questo 7-bello, a proposito per la cronaca le firme, doppietta di Guy e Dudu, in più il solito Luca Ian, ma anche Rafinha e Capitano Murillo. Piange e mastica il fiere una tombese ortona che in gara secca, prima fase, play-off dia 2, viene eliminata dal Cus Molise, in code supplementari dopo aver rimontato e, nonostante l'espulsione del portiere D'Elloso e alcune, troppe, contestatissime decisioni arbitrali, dopo aver, si diceva, dominato fino al 5-4 in gol di Ervolino, Assad, Pizzo, due volte Bordignon. Esce di scena con applausi, pure in gara secca, una Real Dem che nei play-off di B cade sul campo del forte Itria con un 8-4 e si era in vantaggio, che nulla toglie al pazzesco recupero stagionale dei Montesilvanesi e che salta ancora una volta l'infinito junior, autore di una doppietta con uno scavino perla da campione. Con lui in rete pure l'altro fuoriclasse immarcescibile Schurz e il giovane Dominioni. In campo femminile, infine, il Montesilvano ha avuto vita relativamente facile in gara 1 dei quarti contro Città di Capena, doppietta di Amparo in apertura a rotonda Lusideia nella ripresa, ma a tante le occasioni sfumate il 3-1 sta stretto. Conte il successo da replicare giovedì in gara 2 con eventuale bella da scongiurare domenica 16. In chiusura il volley nel weekend in Serie B maschile. Sono andate al tappeto l'Alba Adriatica con qualche rimpianto contro San Giustino e il Paglieta contro il forte Casarano. Domani per la B2 femminile scendono in campo Teramo e Arabona. Vediamo. Chiusa non senza un mare di rimpianti, la parentesi A tra Ortona e Pineto, torna alla B maschile. L'Iseini alba Adriatica perde nelle immagini 1-3 contro il quotato San Giustino, ma il risultato non rende merito a quanto visto in campo. Il sestetto di Petrelli ha perso di misura gli ultimi due set, ma con una difesa più precisa e meno servizi errati avrebbe potuto, trascinato dalla coppia di Felice e Di Meo oltre 30 punti in due, riportare un risultato diverso in vista del match di ritorno, a fine settimana in terra perugina. Discorso diverso per il Paglieta nelle immagini, la generosità non basta a scalfire la corazzata a Casarano, consolidata pur forte com'è dall'arrivo di tal Paoletti, una vita in A ed ex si è cortona. Un 3-0 facilmente pronosticabile e reiterabile in gara 2, ma che nulla toglie al percorso della società di Vitelli che si è garantita, regolamento a parte, comunque la permanenza in B dopo una brillante prima fase. Domani il via alla B2 femminile, alle 20 il Teramo riceverà le umbre del Trestina, alle 21 l'Arabona sarà di scena a Corridonia, i rispettivi ritorni in programma sabato 15, quando in campo ma per la B1 scenderà anche l'Altino impegnato a Iesi. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con ProTeramo, il nostro settimanale dedicato alla Lega Pro e in particolare al Teramo con la conduzione di Jacopo Forcella. Vi ricordo anche i prossimi appuntamenti informativi con la nostra emittente, le edizioni del TG delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per averci scelto. Grazie per averci scelto.